L'esame dei magistrati della Corte dei Conti hanno messo in evidenza come la realtà della città di Manto nel suo complesso è una realtà molto dinamica e hanno messo in evidenza come la nostra amministrazione in modo puntuale riesce a governare e a promuovere questa dinamicità. Contiene un incoraggiamento, un apprezzamento ad andare avanti con lo stesso stile, la stessa efficacia che hanno contraddistinto la nostra amministrazione in questi anni. Abbiamo avuto in casa, cioè nella casa comunale per circa un anno i magistrati della Corte dei Conti che hanno analizzato gli strumenti di gestione e naturalmente tutte le attività che svolgiamo con i nostri circa 500 dipendenti e con le nostre strutture partecipate. Abbiamo fatto delle precisazioni nel senso che la prassi vuole che il giudizio provvisorio espresso dalla Corte che è contenuto in oltre 150 pagine di relazione puntuale sia sottoposto ad un necessario intervento di precisazione da parte dell'amministrazione. Abbiamo fatto nel giudizio che è stato poi espresso in una vera e propria Corte, in una vera e propria udienza di Tribunale della Corte dei Conti, sono state fatte proprie le precisazioni dell'amministrazione comunale che hanno permesso di arrivare ad un giudizio molto positivo che per obbligo di legge portiamo questa sera all'attenzione dei consiglieri in Consiglio Comunale. Abbiamo dimostrato che siamo nei parametri fissati dalla legge che nel caso specifico riducono del 50% quanto l'amministrazione utilizzava nell'anno 2009. L'anno 2009 è un parametro di riferimento di legge e noi siamo al di sotto del 50% di quanto utilizzava l'amministrazione comunale di Manto nel 2009.